È il giorno delle primarie per il Partito Democratico e anche a Como è tutto pronto. Dall'urna uscirà il nome del candidato a Premier proprio questa sera. Si vota oggi dalle 8 alle 20 e sono 85 i seggi allestiti in tutto il territorio della provincia. Seggi che vengono aperti alle 8 e chiusi questa sera alle 20. Tutti gli elettori che ancora non si sono registrati comunque lo possono fare tranquillamente presentandosi al seggio del comune di residenza. E questa è la scheda che troveranno gli elettori proprio quando andranno a votare quest'oggi con i nomi dei 5 candidati per la carica di Premier. Pierluigi Bersani, Bruno Tabacci, Laura Puppato, Michi Vendola e Matteo Renzi.